Uno degli aspetti fondamentali di un approccio transpersonale è lo sguardo che si ha sulle cose, è riconoscere che siamo in dialogo con il mondo, questo mondo che presumiamo abbia anche una sua intelligenza e questo che sta succedendo è semplicemente un'opportunità. Un'altra delle cose buone dell'approccio transpersonale è che cerca di non avere delle credenze o quantomeno di riconoscere se ha delle credenze, ma di avere uno sguardo come se. Cioè lo sguardo come se noi fossimo in un dialogo partecipativo con il mondo e il mondo ci sta in questo, comunque noi vogliamo concepire questo mondo, questo transpersonale, questo oltre a noi stessi, comunque vogliamo concepirlo, ci sta dando questa opportunità, questa opportunità di essere qui in questo momento a guardarci negli occhi, pure in schermo, all'interno di un contesto. I contesti sono di vario tipo, c'è il contesto della pandemia che ovviamente parla forte in questo momento, ma c'è il contesto di quello che avete scelto che compre un percorso formativo e trasformativo di ordine transpersonale. Prova a vederla così. Ok, io ho fatto questa scelta. Magari con una serie di pretesti, il pretesto che voglio formarmi in psicoterapia ovviamente, il pretesto che tra i vari approcci, questo mi sembra quello più affine a me stessa, però di fondo, al di là dei pretesti, in questo momento tu sei qui in un cerchio, in un contesto quindi, con persone in viaggio come te, che hanno degli intenti specifici, tipo appunto una formazione in psicoterapia, ma una formazione in psicoterapia che preveda una trasformazione interiore, che prevede un viaggio di realizzazione verso se stessi. Quindi questo è un multidore in livello di complessità. Realizzazione di me, processo trasformativo personale, formazione in psicoterapia e spirito del tempo. In questa ottica, in questo momento di pandemia, in questo momento, nel quale mi viene richiesto uno sguardo particolare per poter affrontare. È come se fosse una stretta e ora quella dobbiamo passare. Però uno sguardo transpersonale ci dice ok, adesso è questo. Dov'è il problema? È semplicemente il tuo viaggio, semplicemente la tua opportunità, questo. Questo per dire che al di là di quello che voi apprenderete in questi quattro anni, la cosa fondamentale è il tipo di sguardo che noi riusciamo ad avere sul mondo, perché questo è ciò che in ogni istante ci consenterà di trasformare, di essere terapeuti di noi stessi e di conseguenza terapeuti dell'altro. Una visione transpersonale, come adesso vedremo, perché in questa lezione noi andiamo ad approfondire gli elementi, diciamo così, epistemologici della visione. In questa visione, che è così da una parte, è una visione ampia, è una visione che cerca di essere transpersonale e non identificata. È una visione che in quanto così ampia ci richiede un livello di comprensione via via più approfondito. Se noi comprendiamo bene la visione che ci sta, la visione ontologica quindi, che ci sta alla base e l'epistemologia che la sostiene, noi comprendiamo come questo viaggio insieme nel cerchio sia invece profondamente funzionale al tipo di apprendimento, al tipo di viaggio che vogliamo compiere insieme. Perché ci dice, guarda che la tua comprensione dipende dallo stato di coscienza nel quale sei. E questo viaggio negli stati di coscienza è un viaggio che ti porterà sempre più in profondità. Cosa vuol dire profondità? Profondità vuol dire che riduce lo span, riduce la varietà e aumenta la profondità. Per cui quello che tu senti dire in questo momento, quello che succederà nei percorsi formativi, non è quella semplice cosa che io, che i docenti dicono o che tu vivi, ma è quello che tu vivi più quello che tu ne fai di quello che tu vivi, più il grado di stato, lo stato di coscienza che avrai. Per cui la stessa cosa detta dieci volte sarà diversa. Perché quello che farà la differenza vera tra ciascuno di voi in formazione è il grado di stato di coscienza e di stato di pensiero, come vedremo, che ognuno è in grado di raggiungere.